Lo spazio è sempre bianco e nella sua semplicità sempre apparentemente riconoscibile. Ma di Open Box, il garage dell'arte diretto da Gaspar e Luigi Marcone in via Pergolesi a Milano, alla quinta mostra cambia ancora e questa volta ospita i lavori di Rebecca Moccia e del duo Ornaghi-Prestinari che con la curatela di Ginevra-Bria danno vita alla mostra Substantial. Al centro del progetto, che all'intento di andare oltre la materia, c'è la luce, che è l'elemento dialogico tra i lavori, ma che gli artisti hanno voluto incanalare attraverso un intervento che cambia la superficie cubica del box con la creazione di una parete e la grandezza di una porta, che nasconde e rivela una luce del mattino, prima soglia percettiva all'interno di un'esposizione che continuamente propone confini da attraversare. La luce, si diceva, quella che dovrebbe scandire il tempo anche nell'opera di Rebecca Moccia, Poesia Meridiana, ma nel cubo milanese la dimensione è poetica e non cronologica e così è la parola tempo a comporsi sulla meridiana stessa. Il segno sfida quella che chiamiamo realtà, concetto che viene messo in discussione anche da Valentino Renaghe e Claudio Prestinare nella fotografia sabbia, che mette in scena un'azione fisica, un getto di era compressa che spazza via i granelli che ricoprivano un solido di alabastro, lasciando però uno spazio d'ombra che diventa a suo modo una possibile verità di luogo abitabile. Alabastro, che poi il duo di artisti scava nell'opera Guscio, fino a ridurre alla densità minima che consente di mantenere la forma. E allora è come essere in discussione l'idea di volume, a ricordarci che la scultura spesso è la più grande operazione di sottrazione creativa. In Autunne Foglie, infine, Rebecca Moccia sceglie di utilizzare l'asfalto e la simbiosi stagionale con le foglie cadute, ma per farlo, trasmettendo il senso di accoglienza, decide di utilizzare la forma di un cuscino imbottito, posto proprio sul limitare della superficie, tanto fisica quanto concettuale nonché espositiva, di The Open Box, uno spazio aperto e no profit che offre esperienze diverse e ha il pregio di sollevare sempre delle domande. In questo caso, si chiedono gli artisti, che cosa sono le ombre delle ombre?